Ci troviamo al CNEL dove la UICA ha organizzato un convegno dal titolo Nuovi modelli di sviluppo, valorizzare le autorità, tutela di cittadini e imprese. È la prima volta che un sindacato si occupa delle autorità. Quali sono state le motivazioni che vi hanno spinto a organizzare questo convegno? Perché crediamo che le autorità siano istituti molto importanti, soprattutto nelle società moderne, con i nuovi modelli di sviluppo citati nel titolo del convegno, con la globalizzazione e abbiano una funzione fondamentale per tutelare le cittadini e le imprese. Crediamo che non siano valorizzate come potrebbero e dovrebbero e quindi vogliamo aprire un dibattito pubblico, alla luce anche del fatto che è prevista una riforma delle autorità nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione e vorremmo che in questo dibattito pubblico il sindacato avesse voce per poter parlare del futuro delle autorità, come possono essere valorizzate per svolgere al meglio i compiti che sono loro attribuiti e soprattutto per far vedere anche che le lavoratrici e i lavoratori delle autorità sono persone preparate che devono essere messe nelle condizioni di svolgere al meglio i loro compiti. Questo si scontra con una situazione dove le autorità sono nate in modo disorganico, non c'è una situazione uniforme e questo si ripercuote anche sulle condizioni di lavoro, tant'è che abbiamo situazioni dove non riusciamo a chiudere accordi sindacali, relazioni sindacali quasi nulle e noi con questo convegno vogliamo dire alle autorità che invece siamo interlocutori credibili, costruttivi, che vogliamo trovare soluzioni per il bene delle lavoratrici e dei lavoratori e per le autorità stesse. Abbiamo parlato oggi di nuovi modelli di sviluppo per valorizzare le autorità. La politica che cosa può fare a riguardo? Beh intanto prendere molto sul serio l'esigenza di garantire autonomia e indipendenza e nell'interesse generale che le autorità siano poste in condizioni di esercitare a pieno le funzioni che la legge attribuisce loro e soprattutto siano poste nella condizione di esercitare queste funzioni in piena autonomia e in piena indipendenza. Si è parlato quest'oggi ad esempio del decreto sulla dirigenza e io credo che sia stato importante che il Parlamento in sede di espressione dei pareri la scorsa settimana abbia voluto ponendo delle condizioni e delle osservazioni sottolineare come sia necessario valorizzare le competenze e le professionalità che oggi consentono alle diverse autorità indipendenti di svolgere quella funzione che mi sembra tutti riteniamo debba continuare ad essere svolta e semmai messa nelle condizioni di poter ancora di più garantire in ultima analisi i diritti dei cittadini e la qualità della concorrenza e del confronto tra imprese. Indipendenza e autonomia delle autorità, la politica come può garantirle? In questi giorni stiamo valutando un parere al decreto attuativo della cosiddetta legge che riguarda anche le autorità. Credo che nel parere bisogna insistere su una condizione fondamentale per la tutela dell'indipendenza, a cominciare da una revisione di quel ruolo unico che comprometterebbe la professionalità necessaria poi a garantire l'indipendenza. Inoltre è la fase nella quale andare a un ripensamento più generale. Le autorità sono nate in un clima fortemente influenzato dal paradigma neoliberista che ha affidato al mercato la soluzione di tutti i problemi. Abbiamo visto che non è così e credo che uno sguardo d'insieme sia necessario per ridefinire gli ambiti di regolazione da affidare alle autorità. A quali obiettivi dovrebbe puntare la riforma delle autorità? Dovrebbero essere definite bene le funzioni, le finalità di ciascuna authority e poi effettuare delle operazioni di aggregazione delle singole autorità in funzione delle finalità perseguite. Per esempio nella materia del credito e del risparmio le finalità potrebbero essere la tutela della stabilità finanziaria, la tutela della concorrenza, la tutela della trasparenza e della correttezza negoziale. Si potrebbero quindi ordinare, come già in parte sono le autorità del settore, per le singole funzioni lungo queste finalità. In più l'obiettivo, ma se vogliamo lo strumento per raggiungere queste finalità è una valorizzazione forte del personale che opera in queste istituzioni assai delicate, che deve vedere molto valorizzata la professionalità, la competenza, l'esperienza, la dedizione al lavoro, dal momento che in definitiva per l'autonomia e indipendenza di queste autorità è importante l'ordinamento che le tutela. Io ho parlato di necessità di costituzionalizzazione. Sono importanti le norme specifiche che le disciplinano, ma molto importante, direi di pari importanza, se non addirittura superiore, è il personale che operi con grande capacità e con grande autonomia. La vera difesa dell'indipendenza sta nella capacità del personale. Anac è un caso di specie in uno scenario non uniforme delle autorità. Come prevedere la riforma di tutte le autorità? Grazie della domanda. Anac è un caso di specie perché è un'autorità che è nata sulla spinta dell'emergenza con un'occasio legis molto particolare, ha avuto una storia molto tormentata, come ho cercato brevissimamente di dire, siamo nati come Civit, ci siamo trasformati prima come Anac, decreto legge Madia, poi adesso siamo un'Anac diversa con un piano di riordino. e però siamo parte di un sistema e quindi è necessario che sia ripensato all'intero comparto delle autorità amministrative e i due punti cardine a cui fare riferimento sono quelli che poi sono emersi dal dibattito interessantissimo di oggi. e c'è da una parte regole uniformi, quindi uniformi sulla questione dei principi, e cioè qual è il rapporto fra le autorità e le altre istituzioni costituzionali, come garantire la loro indipendenza, come assicurare l'alto livello di competenza che è necessario per esercitare competenze così delicate in regime di indipendenza. Dall'altra parte però, siccome ogni autorità ha una propria specificità, non si può pensare ad un regime unitario, un regime uniforme. Bisogna che queste specificità vengano valorizzate e quindi all'interno di principi uniformi, regole specifiche per le singole autorità che riconoscano la specificità della competenza. Quali sono i vantaggi concreti per i cittadini dalle attività svolte dalle autorità? I vantaggi ci sono se ci si fa sentire, perché le autorità sono più attente sulle sollecitazioni che vengono dalle imprese. Io penso che il sindacato, i consumatori si debbano far sentire e debbano incalzare perché nel mercato ci devono essere delle regole, non ci può essere la legge della giungla, perché il più grosso finisce per sopraffare il più debole. Quindi le autorità da questo punto di vista sono uno strumento utile, non è uno strumento per gli altri, è uno strumento che deve tutelare e deve fare in modo che il mercato sia a servizio del cittadino e non viceversa. Quale deve essere il ruolo del sindacato per valorizzare le autorità? Noi per tempo abbiamo unificato i lavoratori che lavorano in queste autorità sotto una sola categoria, quindi abbiamo già precorso i tempi. Abbiamo bisogno che siano autorità terze. Noi abbiamo avuto delle esperienze, anche per esempio per quanto riguarda l'autorità sul diritto di sciopero, non quella che è attualmente in carica, ma quella precedente, non aveva il senso della misura rispetto alla possibilità di intervenire non solo sugli effetti dell'azione sindacale, cioè sullo sciopero, ma anche sulle cause che avevano determinato lo sciopero. Se non ci sono possibilità di sanzione di intervento, essendo un'autorità terza nei confronti di chi determina condizioni di svantaggio, condizioni di difficoltà, è sbilanciata l'azione dell'autorità. Noi vorremmo invece che l'azione dell'autorità sia veramente indipendente e autonoma dal potere politico, con una grande capacità professionale che bisognerà ricercare e che significa anche poter dare risposte ai lavoratori che in questi settori lavorano. Il senso dell'iniziativa di oggi è molto semplice. Noi vogliamo portare al centro del dibattito sindacale il problema delle autorities italiane. È un problema molto forte perché le autorities non sono oggi regolamentate come gli altri tipi di autorità e non hanno un contratto generale. Però sono importantissimi per i cittadini, perché rappresentano una salvaguardia verso i cittadini, per le garanzie, per lo sconsob, l'antitrust, eccetera. Noi vogliamo rafforzare questo proprio perché la UIL è sindacato dei cittadini, perché noi crediamo in questo. Oggi noi proponiamo delle modifiche all'attuale legislazione. Noi chiediamo che ci sia una maggiore presenza del governo su questi aspetti e che chiediamo proprio un piano sul governo perché vogliamo che i cittadini siano rappresentati ancora ma maggiormente. I diritti dei cittadini sono prioritari. Per esempio, prendiamo la Consob. Abbiamo visto che sul problema delle banche c'è questo problema di come gli amministratori si sono comportati nelle banche e chiediamo quindi un intervento forte della Consob contro quelli che hanno causato questi danni che oggi poi si riverbano su tutti i cittadini, su tutta la collettività, su tutta la nazione. Oggi noi abbiamo voluto... siamo il primo sindacato che fa un convegno sull'autorità. Non si è mai verificato perché è un mondo molto vario e anche variegato, nel senso che ogni autorità ha un proprio contratto, ha una propria legislazione, ma non c'è un contratto generale. Quindi parte tutto dal riferimento della Banca d'Italia e poi dopo si dipana nelle altre autorità. Noi ritengo importante per un motivo, essenzialmente perché le autorità devono essere a servizio dei cittadini e quindi devono rafforzare i controlli e devono rafforzare tutti i vari aspetti che possono sorgere nel fatto quotidiano, dai trasporti alle comunicazioni, alle banche, eccetera. Quindi noi siamo favorevoli all'autorità, ma vogliamo che ci siano dei compiti precisi. Oggi ancora c'è confusione. Adesso con la venuta di Cantone, noi speriamo che ci sia... che poi anche questo è speciale nella specialità, quindi anche questo. Quindi speriamo che ci sia una forte presa di posizione del governo e che soprattutto il governo faccia qualcosa per risistemare questo, cosa che ancora non ha fatto. E chiedete come una legge quadro, disciplinico, in un contesto generale... Esatto, esatto, esatto. In un contesto generale i compiti e gli aspetti. Anche perché, per fare alcuni esempi, in alcune autorità si può prendere il part-time, in altre no. Cioè nel senso che tutto deriva dalle costituzioni e dagli usi che ci sono all'interno delle varie autorità. Quindi non c'è una legislazione o un contratto unico. Questo è l'aspetto. Poi l'altro aspetto che noi vogliamo curare, soprattutto mi collego alla seconda questione, è quella della Consop. Perché obiettivamente noi abbiamo visto nel passato che la Consop è stata molto cattiva cattiva nei confronti dei deboli, ma molto buona nei confronti dei cattivi e cattiva nei confronti dei deboli. E quindi chiediamo che ci sia una maggiore apparenza di questo.